Dov'è il maestro? Ammirare la cosa! Inizia la prima inaugurazione di quest'opera dell'amico e artista Ercole Pignatelli che ha avuto l'idea geniale di donare al nuovo palazzo di Regione Lombardia una delle sue creazioni. Quindi quest'opera è stata fatta per noi, per la Lombardia, per il palazzo, perché io voglio che questo sia anche il luogo della bellezza delle opere d'arte. E questa è finita e non pensavo, mi sembra che l'abbia fatta un'altra, perché mi sono messo talmente a capofitto che non mi sono accorto alla fine. Io ho lavorato qui con un tale accanimento, tale desiderio, la mattina non vedevo l'ora di arrivare e dico alla fine è già finita. Come mai ci sarà stato qualche santo, qualcuno che mi ha protetto? La cosa bella è questa, cioè lasciare la creatività che si svolga da sola e che alla fine sicuramente darà i suoi frutti. E' un sogno che si realizza per me ed è molto importante, perché il luogo delle istituzioni deve essere il luogo dove ogni lavoro umano si ritrova. Io ho anche l'idea a un certo punto di far magari un laboratorio artigiano, quindi faremo questo laboratorio artistico, in modo che questo sia il palazzo non solo dell'amministrazione Lombarda ma di tutta la creatività lombarda. Grazie a tutti!